Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 5 maggio, indaga sul figlio, Alberto si vendica. L'appuntamento con un posto al sole è confermato dal 2 al 5 maggio 2023, con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Alberto Paladini si ritroverà ad indagare per cercare la verità su colui che gli avrebbe rovinato la vita. Diffondendo quel video che ha messo a dura prova la sua relazione con Clara. Intanto Roberto si renderà conto che ci sono sempre più dei punti oscuri nella vicenda del figlio Tommaso e, per questo motivo, deciderà di indagare. Nel dettaglio, per la prossima settimana è previsto un cambio in programmazione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole. La puntata di lunedì 1 gradi maggio non andrà in onda per lasciare spazio al tradizionale concerto della festa dei lavoratori ma... Tuttavia, l'episodio sarà recuperato venerdì 5 maggio. Nell'ex esprime Time di Rai 3, infatti, è prevista una doppia puntata con la soap. Che andrà in onda eccezionalmente dalle 20 e 15 in poi. Le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Roberto Ferri. Il quale inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto dei continui malesseri del figlio Tommaso. L'uomo si renderà conto che c'è qualcosa che non va in tutta questa vicenda, motivo per il quale proverà ad indagare e ad approfondire per cercare di arrivare alla verità dei fatti. Roberto e Lara lasceranno così Napoli per un po' di giorni, per continuare il tour di specialisti che si stanno prendendo cura del piccolo Tommaso. Martinelli rischia di essere smascherata dal suo ex compagno. E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Alberto, dopo essere stato lasciato da Clara, deciderà di vendicarsi. L'uomo si presenterà al caffè Vulcano e, con tono minaccioso, inizierà a dire di avere intenzione di farla pagare a chi ha diffuso quel fantomatico video che lo ha messo nel guai con la sua compagna. Tanto da portarla a chiudere la relazione. E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 5 maggio rivelano che la situazione sarà particolarmente tesa anche per Angela e Franco. I due si ritroveranno ai ferri corti, dopo che l'uomo ha avuto modo di ascoltare una conversazione privata tra Angela e Viola, durante la quale sua moglie non usava parole edificanti nei confronti dell'uomo e in generale del loro rapporto. Un duro colpo per Franco che, a quel punto, si renderà conto che la crisi con sua moglie è sempre più forte e potrebbe portarli a prendere due strade completamente differenti.